Il corso Autostima e Concezione del Sé offre un percorso di consapevolezza personale per comprendere a fondo come il proprio valore non sia direttamente legato a risultati professionali o relazioni affettive. Attraverso un'analisi dei fattori che influenzano l'autostima e la solidità della concezione di sé, i partecipanti acquisiranno strumenti per identificare i propri punti di forza e per riconoscere le aree su cui investire per rafforzarsi emotivamente. Questo approccio promuove una visione equilibrata e autentica del proprio valore, favorendo una crescita personale autonoma e mirata. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.